Mi chiamo Marco Bergonzi L'associazione in questo caso, perché stiamo parlando di un'associazione, si chiama ONTOS ed è un'associazione di promozione sociale, una APS L'associazione nasce nel 2015 tramite quattro soci fondatori io, mia moglie e altri due soci che sono marito e moglie e un quinto socio che è un insegnante di yoga con l'idea di generare uno spazio dove le persone potessero attingere da strumenti vari per completare quello che noi pensiamo possa essere il percorso evolutivo per ogni essere umano quindi trovare un modo per crescere e vivere meglio Il periodo del lockdown è stato abbastanza drammatico per un APS perché come associazione di promozione sociale non abbiamo di fatto accesso a grandissimi finanziamenti o grandissimi aiuti da parte di quelle che sono le strutture classiche e nello stesso tempo proprio per il tipo di attività che avevamo e che abbiamo ancora adesso in ONTOS ovvero percorsi come il yoga, il pilates, il tai chi e dall'altra parte percorsi di formazione per le persone, meglio se effettuati in presenza, abbiamo dovuto completamente chiudere i battenti In un primo momento ci siamo organizzati con della formazione online quindi tramite i classici canali che poi tutti abbiamo imparato ad usare nel 2020 da videoconferenze Zuma, Google Meet e quant'altro ma di fatto per la parte di formazione personale, per la crescita personale quale può essere la formazione di coaching o di counseling che noi operiamo il limite è forte con questi strumenti e abbiamo dovuto rinunciare in un secondo momento già a partire da maggio-giugno a poter portare avanti questo tipo di percorsi con la ripresa dei blocchi forti sul settembre-ottobre abbiamo dovuto interrompere anche le sedute di tai chi, di pilates, di yoga e quindi adesso in questo momento siamo in attesa di poter riaprire In questo momento la considerazione che abbiamo fatto è che è un periodo in cui non si può stare fermi nonostante le attività, nel nostro caso, non possano proseguire e la decisione fondamentale è stata quella di cominciare a sviluppare la parte di contatto con il pubblico, possibilmente lato social lato social perché è il primo aspetto che va a prendere, a colpire direttamente le persone che va a prendere direttamente le persone, che va a coinvolgerle e quindi la strategia di questo periodo è stata essenzialmente una strategia di movimento sui social farci vedere preparati, farci vedere attivi ma soprattutto cercare di mantenere il contatto con chi arrivava da noi e tenerlo pronto per un'eventuale ripresa delle attività di fatto questo ci ha messo anche in condizioni di ascoltare nella gente un crescente bisogno di riprendere con le attività normali di prima benché lo yoga potesse essere fatto a casa, da soli, con i video tanta gente sta aspettando di poter rincontrare ancora il nostro insegnante benché alcune attività di formazione personale potessero avvenire anche via conferenza la gente già a settembre, ottobre aveva bisogno di incontrarci ancora di persona di poter sperimentare dal vivo determinati percorsi che noi proponiamo nel nostro centro e quindi credo che l'attività che abbiamo svolto almeno a livello social sia stata da una parte un tenersi impegnati e dall'altra un continuare a proporsi come vivi e attivi benché non fosse possibile incontrarci di persona domanda un po' difficile il nostro è un percorso imprenditoriale un po' sui generis non è un vero e proprio investimento che mira ad uno sviluppo economico il nostro succo è sviluppare le persone che entrano in contatto con noi e permettere che loro si sviluppano che loro si evolvano per quelli che sono i loro percorsi e le loro necessità la cosa fondamentale è metterci passione metterci cuore, metterci tutto quello che si ha perché vedi il risultato negli altri e questa cosa ti riempie l'unico consiglio credo di poter dare a tutte le persone che intraprendono in qualsiasi tipo di percorso imprenditoriale è fatelo quando ne avete voglia se ne avete voglia e metteteci dentro tutto il vostro cuore a tutta l'energia che potete fatto in questo modo porta di sicura dei risultati non sempre devono esserci dei risultati meramente economici noi vediamo molto il risultato in una sorta di onda che si propaga nelle persone che vengono a contatto con noi che migliorano la loro vita e che a loro volta migliorano la vita dei loro familiari di chi gli sta vicino e la sensazione di quest'onda è per noi, almeno in questo momento un risultato che è fortemente, se non addirittura superiore fortemente paragonabile al risultato economico come ho avuto modo di accennare prima il social in questo momento soprattutto in questo momento per noi è fondamentale la visibilità è una cosa ma l'avere l'autorevolezza nei confronti delle persone che ti ascoltano ha un valore preponderante per certi versi siamo ancora in uno stato embrionale di quello che è lo sviluppo social della nostra attività per noi ha sempre avuto molto valore il discorso del passaparola il passaparola però in questo momento di blocco fisico nel periodo che abbiamo passato in cui non era possibile vedersi non era attuabile e di fatto la mancanza di questo passaparola per noi fondamentale è stata superita anche e soprattutto dalla strategia social che ci auguriamo di implementare ancora di più Nella nostra organizzazione l'arte è uno dei tasselli fondamentali se parliamo di linguaggio se parliamo di movimento del corpo nella stessa definizione di essere umano c'è di per sé l'arte come espressione ma non solo come espressione ma anche come fondamento base e per noi il linguaggio è arte il movimento del corpo è arte questi sono due elementi che in Hontos sono fondamentali per lo sviluppo della persona per l'evoluzione della persona quindi per noi avere a che fare con l'arte e avere a che fare con l'essere umano e dover portare poter portare un essere umano al suo sviluppo alla sua evoluzione vuol dire anche confrontarsi con quello che è il nostro personale e il suo concetto personale di arte